Ok, da partire dai un po' di gas perché prende un po' di spingersi. Prima dentro, prima un po' in su. Quando molli il po' di gas va molto più minimo. Eh, devo andare di qua, di qua. Quanti vieni? Uno o uno? Un'altra avanti e un'altra. Qui sono questo paletto, il controllo sempre sono... Direi che puoi andare direttamente. Secondo. Vai, tutto all'interno dei giri. Buongiorno. Secondo. Più gas, mani perfettamente. Più dietro, meno. Poi puoi andare a frenare, va. E' tranquillamente. Poi puoi andare a frenare, vai. Poi puoi andare a frenare. Ok, entra. Poi gas, vai. Gas, 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 gas. Stai via a sinistra. Ah, puoi tenere anche questa seconda. Prendi, metti seconda. No. Vento, a sinistra. Ma non cambiare, tutta seconda. Scherzi a tutto, tutto. Vai, 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 vai. Ok. Non c'è l'articolo sufficiente. Viaggia all'articolo. Ok. Viaggia all'articolo. Guarda. 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 Ma è terza. Ma è terza. Ma è terza. Molto più freni. Molto più freni. Largo, 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 largo. Ok. Prendi, metti seconda. Gas, allarghi. Togli i gas e fritti. Gas ancora, tolto e liro. Guarda. Prego bene. Mi è sempre prima di stare segonnate. Allaadtima staccare la tua Thomas Rooxica. Guarda! Lo sical blastore la tua staccia. Grazie a tutti.